ma giù il panzello bello, andiamo a vedere che cosa succede e gara, dovrebbe essere il pentolino al comando per il Beslate andiamo a vedere la curva, si infila bene anche il Garlate, Pietro Tavola, attenzione viene fuori anche Maddalena Luini che cerca il podio del 3-4-8 Tattano, Gabriele Tattano in seconda posizione, è in seconda ma è ancora gara gara al comando, Leonardo Gara del Beslate, ultima curva e andiamo a vedere la dirittura, la rimedio in segala